Ciao ragazzi, con un crimine al giorno, il 14 marzo, una piccola pillola di crimine veramente horrorifica che sarebbe degna di una fiaba horror, questa del allegro chirurgo, come l'ho nominata se non fosse una terribile realtà all'inizio degli anni 70, andiamo a vedere subito la scheda di un medico decisamente degno di lavorare i giorni nostri, ma molliamo il sarcasmo, andiamo a vedere il 14 marzo un caso aperto all'anno 1971, siamo in un ambulatorio di Saint-Denis a Parigi, tra le 11 e le 13 del mattino, una mamma porta il proprio figliolo di anni 12 di Dieradouin per incidere quella che sembra essere semplicemente una ciste dovuta a un furuncolo su una gamba e viene spinta dal medico a voler tentare un intervento di appendicite di cui il ragazzino sembra soffrire, la mamma dà l'ok per l'operazione sul furuncolo ma nega assolutamente l'ok per quanto concerne l'operazione di appendicite ad un medico, tale Pierre Peignoux che effettivamente è un medico dell'arrondissement, è un medico che però si era già internato volontariamente all'interno della clinica psichiatrica di Saint-Denis per un avvenuto abbassamento della propria abilità medica e della propria lucidità, ma essendo un internato volontario, volontariamente fu anche rilasciato e riportato insomma ad operare, tant'è vero che contrariamente a quella che era stata l'opinione della madre, la volontà ferrea della madre che non aveva visto né le condizioni né la qualifica del medico per portare a termine questo tipo di intervento, operò nel suo ambulatorio di appendicite provocando un'emorragia interna gravissima al ragazzino, prima mandò la propria assistente a prendere delle bombole e a richiedere delle sacche di sangue dall'ospedale, poi necessariamente chiamò l'ambulanza che purtroppo si portò via il giovanissimo Didier già cadavere, ovviamente tra la disperazione della folla presente, dell'assistente che scappò e ovviamente della madre. A quanto pare, a parte un'indagine psichiatrica, non ci furono indagini di tipo giuridico sul Pierre Peignoux di anni 45, nessun sviluppo giudiziario conosciuto, del resto il medico degnissimo dei giorni nostri disse semplicemente, beh tutto sommato il giocattolo si è rotto, ma io sono assicurato. Credo che non ci sia altro da commentare per quanto concerne il crimine del giorno, 14 marzo, ci vediamo domani sempre su Crack Apart YouTube per un'altra piccola, poco conosciuta pillola di crimine. A domani.